Ciao Marcello, un saluto a te e a tutti gli juventini di Top Planet Allora, partita veramente veramente tosta quella di ieri sera allo stadium Io ho, da quello che ho potuto vedere, è stata una partita molto dura Ce la siamo giocata, però nel primo tempo non siamo riusciti a brillare molto Dopo l'1-0 segnato da Cagliacón, ci siamo veramente, anche prima dell'1-0 non attaccavamo davvero a Juve E infatti, troppa difesa, troppo sbilanciata e ci siamo riusciti a far segnare Gol che a mio avviso era in fuorigioco Però ovviamente parlano, 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 parlano I napoletani parlano, parlano, parlano Ma a me più di tanto non mi interessa Comunque, nel secondo tempo siamo riusciti a fare la Juve A essere la Juve Infatti, abbiamo segnato ben tre gol Di Bala, Higuain, grande gol dell'ex, gol strameritato E, anzi, due rigori di Bala e il gol strameritato di Higuain Niente, questo è tutto Marcello, io ripeto che a me di quello che dicono i napoletani non me ne frega Niente Anzi, non me ne frega un cazzo Scusami il termine Comunque Ciao Marcello Un saluto a te, al tuo ospite ovviamente E a tutti gli juventini di Top Planet Un bacio Ciao da tutta la Puglia Specialmente da Molfetta Ciao